Comunque c'è ancora un po' più turistico, quindi in conseguenza c'è poca gente che magari investe nei locali, per cui no, la locale si chiama i locali, perché è tutto un sistema. Noi stiamo cercando di fare delle azioni administrative tali per cui si riescono a creare magari dei posti di lavoro, delle opportunità per aziende, pittori, quindi cercare di far crescere sostanzialmente non la popolazione di pensione, ma l'imperia, dato c'è questo piccolo particolare che ci fanno per cento di cittadini, quindi dobbiamo far crescere la popolazione di lavoro e poi guardare, riuscire a spettacolare la sera, quindi in conseguenza c'è un po' più turistico Grazie Grazie Grazie